Nel primo semestre gli ho chiamato in maggio Poretti e gli ho chiamato tutti in Russia, Giovanni, Gugna, Gliberio Angelini, come diceva, è vento, Gliberio Angelini, oh, chiamato. E venissi, essendo del secund, semestre, che ho chiamato di agosto, al 6 di agosto, prima, prima dell'arrivo, 6 di agosto. Osta, te potele, dice, che c'è il Pratestello a fare, che c'è fin, che è che me lo fa? Vedi, dico, che c'è il cane, se ne esce il 1 e il 2 di agosto, e si che il Pratestello in montagna, gliel'è piaciuta. Forse il cane, e metta me lo dò con la slitta in quel tempo, mi ha dovuto le slitte. E per scendere di agosto bisognava andare. Già passivo a 30 al distretto, sono l'altro gatti Enrico, pronto, si va bene, tutto pronto. Lei è nominato nei gran lattieri a Roma. Allora, allora devo andare a Roma. Qua però, essendo altri gatti A, D, A vuol dire cosa? De prima. De prima A. Che te ne consigliano 9 uomini da portare al distretto di Roma dei granatieri. E beh, guardate, io mi riesco in perda per la strada, che dopo mi dico, succia qua. E non sono all'altezza del tempo, io. Allora mi ha detto, va bene, arrivo a Roma. Allora mi ha detto, granatieri, e là, avanti, cosa fa? Vado, 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 vado. Vi vivenga e bombardava. E noi veniva per l'école. Madonna, no, 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 no. Vado lì alla luna. E ci si era la sirena. E fuori tutto in cannellon. Per fortuna, arriva l'8 settembre, a fine della vera, il rebaltone dell'armistizio. Ho avuto la mattina per andare per il Pagnoche. Oh, sta che zove! Le cene che boi e i menestroni, tutti i boio. E non era nessuno che mi era scampati tutti. Senta delinco, sui sette soli. Questi cene, che che sta? Ah, non c'è il rebaltone, che è che non c'è il comandante, non è scampato. Tenente, non ero! Oh, ben buono. Ah, che fare? Il rebaltone? Sì. Ma cosa che vende a uno? Questi materassi dalla finestra. E tutti che vende alle donne? Vintilire, intilire il materassi. Attona, quando i materassi sono finiti, i menestroni ne vanno male. E c'è la pavastazione. I tedeschi, ma pochi, una ventina soli, la baionetta. Ma quando ne ha visti noi, che erano diversi, diceva come ritirare. E vedi a Trent, sui superti. A Trent vede un binario. Entri un binario che era qui che oramai, che era preso neri per andare in Germania. Perché era i tedeschi? Uno ogni metro, con la baionetta, madonna, che aveva visto brutti e rabbiose. E lei ha detto, qui era sinistra che ne ho, ma guarda lì, che aveva una braga da militare. E lei ha detto. Più per tu, non mi aveva me vesti, e in magazin da Roma. E me lo meshe. I me aveva usato, a ragio. che aveva una braga, un basket da tre lire. E mette me il su. E me lo aveva. E poi, mi aveva dato un prossacone di roba, che mi aveva dato un prossacone di roba, giagueti, braghe, calzotti, tre pari di scarpe, un cobertone. E noi avevo usato delle roba di me. E la gara stazione del treno, ah, c'era lì. Un po' per due, tre dì che bruciava, perché chi vede regala la matricola, che chiamano matricola? Oste, che sono il drighetti, amico? Qualche dì, un parchetto dì, non mi lavare dell'amica, perché che sono indirizzo, e vengono a dormire, se il bruciato la calella. Ah, beh, c'è tutta una dritta. Vengono forà. Vengono lì al ponte di San Lorenzo. Il l'a abbattu su l'8 settembre. E mi l'era lì un d'eser. Non c'abbia che il polo era so vantaggio il tocchi di fer. Oh, stia, dico, chi va che c'è? Attraversare? Attraversare? Che che ti dici qui? E noi avevo chiamato per la donna. Sentite, sentite per la donna. Come si fa allora al di là? Guardate, dice, 300 metri in su. 100 metri in su, che è il traghetto e vai venne. E bene, allora dai, va su 300 metri in su, ecco, è traghetta via. Ghera, ghera col proprio tel di Enrico Barbari. E ghera quel che l'aveva fatta, le scappa fuori, e li attraversare che voglia trenire. Tu Enrico, è di sosta. Non voglio fare 3 lire da attraversare, è di sosta. Bene, dico, tre davo a me, ho già fatto i materassi a Roma, tre davo a me i 3 lire, beh, beh, ricco, che niente. Monta su, e fate un chilometro sul bus di vela. E passa un camion di quel che, di quel che sfolava da Trenca, su Carreghe, su Carreghe, e ha fatto una carità, dico, tirare nella casa. E ci ha fermato, monta su, su, ste Carreghe. Mica, stupitelli di Barbari, dici. E lì, 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 ha fatto le prete, ci ha toccato, poi con la curva viene una blanca, la casca sola, sempre parecchia morte, batte nella cabina, non mi ha dato da me, gli è nati, gli è nati, e, che fai? Quando chiesto sono su, sono presto a Vissan, gli hai Bacetti, quando ho fatto il figlio nella cabina, mi fa fermare, come grazie a Vissan spesso che si è fermato, e usano sopra la puntara, sopra la puntara pian piano. Questa che è beppitosa però, buono beppitosa. Ma Ricco, ma guarda da che bando venite? Nei pochi che venite, ma da Roma! Ma qui da Roma veniva e qui da Bolzano e li buttavano fuori. Allora che roba! Immaginate, arrivo a fare, orcociccio, sono maturi e non credenli! Ciao Ricco, sta arrivato! Forse vado a calmer Minico! E dico, forse dai! Minico va a venire pronto! Dai, ci bonda per muare adesso!